Che è la valentina? Abbiamo avuto questo senso! La mia serenina sente meglio di te. Lei ha solo 8 anni. Ho la sensazione che sarà una session... Andiamo! No! No! Sarai felice, aspetta. Hai arrovinato la cosa più bella che hai. E adesso cosa faccio? Ti cerco un lavoro vero? Non ci penso nemmeno. E non è da me. No. Sai cosa voglio fare? Andrò ad allenarmi sulle montagne, come in quel film col tizio che sconfiggio il comunismo a cattotti perché il tuo amico è stato festato a morte da quel gigante russo. Aiutami, com'è che... Sono così fiero di te. E aver fatto parte della nuova impresa è tanto il più grande successo della mia carriera. Ma non è il momento di addenderti sugli amori. Hai un'idea della cappella volcosa per fingerti oltre i polini.